Tutti amici di CryptoGam benvenuti a un nuovo video allora oggi andiamo a vedere un po' di notizie sul mercato e poi volevo parlare di polygon e un altro paio di cose però andiamo intanto a vedere cosa sta succedendo sul chart perché ieri abbiamo avuto un bel pump sul mercato e abbiamo provato anche a prendere uno short anticipato qua ma sinceramente era un po' troppo presto di fatti sappiamo che 14.000 è un punto strategico perché ovviamente un supporto noterò essendo un numero importante questo qua aspetta devo fare una bella ecco qui quindi se andiamo a vedere sul settimanale anche vediamo che sul settimanale si vede leggermente di più perché è un livello importante innanzitutto abbiamo la chiusura di queste due candele ok e poi la chiusura di questa candela qui che anche sembra una shooting star anzi è una shooting star in certo senso ha segnato l'inizio di un bel down quindi questo segna il fatto che questo è un livello importante di fatti ora vediamo che la candela settimanale ci sta sbattendo contro non ha chiuso sopra però sta formando una bella resistenza diciamo quindi potrebbe da qui prendere un altro down vediamo come andrà il mercato perché c'è stata già la prima il primo inalzamento del spike rate degli interessi che ne verranno altri per quanto riguarda per quanto detto dalla fed infatti vediamo qua c'è l'articolo che la fed e dopo sei anni non aveva mai approvato diciamo l'inalzamento degli interessi vediamo che anche bitcoin ha fatto un bello spike ok però avevo dato un short stamattina su bitcoin perché penso che il mercato ha bisogno di prendere un po di profitto e però vediamo che sta mantenendo ancora questa linea che aveva di cui avevamo parlato negli ultimi video di fatto è dato ottima possibilità di trade qua noi ne abbiamo preso uno l'altro giorno qui penso che sia già chiuso in profitto insieme a solana anche l'hanno preso anche una cosa perché si ricorda avevo detto che solana ha un supporto naturale solana usd sugli 80 di fatti vediamo qua che solana sugli 80 dov'è la zona degli 80 ha creato un supporto naturale però vediamo che il channel continua a rifiutare il prezzo verso il basso quindi siamo in un downtrend ma comunque abbiamo piccole possibilità di fare dei piccoli trade se volete ovviamente chi fa il mio corso sa anche usare altri strumenti che lo possono aiutare a capire quando entrare e uscire però se volete usare soltanto supporti e resistenze potrebbe essere un buon modo trovare una resistenza importante naturale come questa e comunque fare dei piccoli trade per quanto riguarda il mercato azionario penso che ancora non ha finito questo l'ho detto più volte il mio obiettivo era i 13.000 è stato raggiunto e addirittura l'ombreggiatura è andata fino a 12.957 prima di poi fare questo mega spike io sapevo che ci sarebbe stato un balzo ma non mi aspettavo un balzo così alto sinceramente però questa ingolfing candle solitamente dà anche un reversal pattern quindi era anche buono poter rientrare qua in questa ingolfing candle cosa che però non ho avuto tempo perché ultimamente non sto passando troppo tempo sui chart in quanto sto lavorando sull'academy e altri progetti però chi fa il corso di trading ovviamente in futuro queste opportunità se passa più tempo sui chart riuscirà a vederle vediamo che la ferrara ha sospeso anche la produzione di veicoli in russia quindi vediamo anche modelli di auto di supercar che piacciono molto ai nostri amici russi che vengono anche stoppati la produzione e l'esportazione vediamo milani sospende export russia to moscow envision ok quindi si stanno un po' alleando tutti contro l'ucraina e la russia ovviamente sappiamo che ognuno ha le sue idee e pareri però essendo che la ferrari fa parte comunque del mercato europeo un po' ci si aspettava ma penso che anche molti si uniranno a questa cosa un'altra cosa vediamo che le banche cominciano già a far salire gli interessi sul soldi cioè sui prestiti quindi già si è alzato a 3,5 da 3.25 e oggi ho detto anche nel disco ma è una cosa che avevo detto un po' di tempo fa che durante l'innalzamento del rate da parte della fed una cosa furba da fare sarebbe scommettere sulle banche perché comunque le banche sono quelle che detengono più cash quindi più soldi di fatto sono quelli che in caso in innalzamento degli interessi quindi anche in alzamento diciamo del prezzo perché comunque in alzamento di interessi da valore al dollaro sarebbe curioso anche fare degli investimenti strategici su alcune banche di fatti vediamo che la jp morgan per esempio ha avuto un bello spike qua istituti finanziari e banche solitamente quindi voglio vedere se questa regola viene seguita anche questa volta però da quello che vedo la jp morgan ha già avuto un bello spike anche se siamo in downtrend perché ovviamente tutto il mercato in down però sicuramente quelle che si riprenderanno prima saranno le banche perché alzeranno i tassi di interesse avranno più cash quindi vediamo come andrà a finire quindi potrebbe anche essere un salto momentaneo quello delle banche difatti vediamo qua la jp morgan comunque che su una resistenza su un supporto molto buono caso qualcuno stia pensando di investire la jp morgan questo potrebbe essere un buon momento anzi analizziamo la jp morgan un secondo vediamo com'è sta andando un attimo beh sicuramente c'è un'area di supporto molto buona verso i i 100 e i 90 qua vedo un'area buona vediamo qua anche il vp vr aria molto forte qua di volumi vedete e quindi sicuramente i 90 e i 100 sono un buon momento per entrare nella jp morgan io ovviamente sto anche aspettando di rientrare negli stock perché voglio vedere fin dove arrivano secondo me ancora non hanno finito di scendere quindi sto aspettando però sto tenendo d'occhio alcuni stock molto buoni abbiamo visto anche che la apple per esempio no non è questo scusate apple ecco la apple per esempio è risalita dietro sopra 200 e mei quindi la apple per esempio ancora aspetterei un po prima di rientrare anche perché ha appena rotto un una trend line importante quindi potrebbe essere anche se ha riaperto di sopra della trend line però vediamo che ha rotto una trend line molto importante la apple diciamo che 125 per l'apple potrebbe essere un buon punto di arrivo secondo me 125 e se andiamo a vedere il td sequential vediamo un po sì secondo me ancora un po da dare verso il basso l'apple quindi aspettiamo aspettiamo un po poi vediamo se magari anche gli stock ci daranno delle buone possibilità di entrata andiamo a vedere intanto anche che crypto whales quindi diciamo che i grandi investitori cominciano a muovere soldi tra xrp come sapete ne ho parlato tanto l'anno scorso e ultimamente sta vincendo la causa contro la secca quindi potrebbe avere un buon pump in caso di ripresa del mercato ma anche senza ripresa del mercato penso che alla vincita della causa poi voglio fare un video apposta perché senti me l'hanno chiesto su questa vicenda potremmo vedere veramente un buon pump potrebbe durare non si sa perché comunque il mercato non è molto in salute però sicuramente potrebbe arrivare a delle buone cifre vediamo intanto anche i movimenti che ci sono stati ultimamente da coinbase quindi mille bitcoin mille bitcoin mille bitcoin vediamo comunque che qua stanno accumulando qui sono tutti accumuli da grandi investitori e a proposito di grandi investitori vediamo anche che l'outflow che ne ho parlato spesso dagli exchange vedete qua che continua a calare e questo stanno parlando dal 2020 quindi dal 2020 è sempre stato il negativo come vedete è stato il negativo il negativo il negativo poi c'è stato uno spike qui e poi è andato anche qui il negativo il negativo il negativo e adesso è praticamente tra i minimi e l'outflow dagli exchange significa che la gente sta accumulando perché li compra e li mette sui cold storage quindi ottime notizie come vediamo qua anche questo l'outflow vedete qui fa vedere anche gli spike quello in rosso è positivo per il prezzo quello in verde negativo per il prezzo perché quello in rosso è l'outflow quindi vuol dire che escono dall'exchange invece quello in verde e l'inflow vuol dire che entra nell'exchange difatti vediamo che l'inflow in questa zona ha portato a un dump vedete il dump questo è il prezzo qua dietro c'è il prezzo quindi vediamo che un aumento dell'inflow ha portato a un dump del prezzo e poi quando c'è stato un mini accumulo qua vedete questa zona qui il prezzo va giù qua hanno cominciato ad accumulare 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 poi qua c'è stato un mini inflow però ovviamente a confronto di questo era molto 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 piccolo come inflow e poi c'è stato un mega accumulo qua che di punto ha portato bitcoin a fare diciamo i nuovi all time high che abbiamo visto dei 69.000 quasi 70.000 questi sono tutti gli stessi dati visti da prospettive diverse comunque questi sono i long time holder invece quindi quelli che tengono a lungo termine come vediamo continuano ad aumentare quindi siamo partiti dal marzo aprile 2021 ok e vediamo che i long term holder quindi quelli che tengono i supply a lungo termine non hanno fatto altro che aumentare in maniera esponenziale difatti il prezzo come ho fatto dell'altro giorno rispetto a un anno fa due anni fa siamo molto molto più in alto del mercato azionario poi vediamo un altro altri dati questo invece misura il cambio di supply quindi diciamo gli scambi di bitcoin o di supply di bitcoin quindi gente che vende bitcoin vediamo che c'è stato nel crash del covid uno molto forte qua però questo ovviamente lo vediamo anche sul chart e poi ce n'è stato un altro tra i 38.000 e i 39.000 quindi essendo che 40.000 era un supporto strategico abbiamo visto che c'è stato infatti qua dice macro uncertainty c'è stato un po' diciamo di dubbi sul mercato che ha portato a un cambio di supply quindi gente che vendeva non so gente che scambiava e vendeva bitcoin proprio nella zona 38-39.000 altro dato comunque sempre visto da un'altra prospettiva vediamo i short term holders quindi questi sono gli investitori quelli che entrano per rivendere subito oppure magari hanno poca esperienza sul mercato quindi comprano e vendono oppure vendono per paura e vediamo che loro come vedete è una linea abbastanza incoerente cioè non è che c'è qualche trend preciso cioè loro comprano poi vendono infatti vediamo che loro comprano quando il mercato è alto e poi vendono quando il mercato è basso invece vediamo che i long term holder fanno esattamente l'opposto cioè comprano quando il prezzo cioè vendono quando il prezzo è alto quindi vediamo qua che c'è la linea più bassa e cominciano ad accumulare quando il prezzo è basso quindi scusate quando il prezzo è alto loro vendono e quando il prezzo è basso loro cominciano ad accumulare infatti qua vediamo la fase di accumulo, 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 accumulo il prezzo si alza loro cominciano a vendere a vendere qua vediamo qua scendono, scendono quindi i short term holders scendono di numero e poi cominciano a riaccumulare di nuovo, riaccumulare e così via di fatto invece facciamo l'opposto dei short term holders quindi dei piccoli investitori che cominciano l'accumulo assieme al trend e di fatti seguono molto i pump vediamo qui c'è un pump del prezzo e c'è anche un pump dei short term holders che iniziano a comprare e poi cominciano a vendere più il prezzo va giù quindi loro fanno esattamente l'opposto della strategia di mercato cioè buy high e say low cioè loro fanno questo, comprano in alto e vendono in basso per quello perdono soldi invece di comprare in basso e vendere in alto comunque vediamo un'altra cosa poi ci abbiamo avuto a ape coin voi sapete che c'è la collezione molto famosa delle scimmie ape che ovviamente adesso vale milioni centinaia di migliaia di dollari e milioni anche in certi casi e che molti artisti internazionali hanno comprato almeno uno di queste scimmie queste board ape adesso stanno facendo il loro coin che poi useranno nel loco sistema, nel gaming, metaverse e tante altre cose quindi stanno lanciando il loro ape coin e ci sono delle figure molto importanti coinvolte in questo ape coin quindi vediamo come andrà a performare altra cosa importante Polygon lancia OurTube che sarebbe l'alternativa di YouTube e io ne ho parlato un po' di tempo fa che molti, diciamo, quelli che fanno soprattutto come me video sulle criptovalute e decentralizzazione abbiamo sempre sperato in una cosa del genere cioè una cosa che sia l'alternativa YouTube difatti YouTube ha delle regole molto strette può cancellarti il canale senza motivi diciamo che sei un po' schiavo del canale YouTube anche dal punto di vista di soldi diciamo i guadagni il 50% va a YouTube quindi YouTube veramente sfrutta molto i content creator in un certo senso quindi un'alternativa sicuramente fa molto molto bene anzi penso che sarò uno dei primi a sperimentarla poi è su Polygon quindi Polygon una di quelle diciamo layer to solution che ho sempre detto che è buono da mantenere infatti andiamo a vedere anche il chart di Polygon che io ho detto che ancora c'è tanto da dare a ribasso infatti sto ancora aspettando Matic USD e no questo no FTX ok quindi vediamo che aveva formato una rising wedge poi io ovviamente a questo periodo me lo ricordo perché abbiamo fatto adesso io ho fatto ottimi trade qua sui supporti e ovviamente anche qua puoi fare dei sell molto strategici però la rising wedge solitamente per chi ha fatto anche il corso che sta facendo il corso sa che è un bearish trend quindi questo è bearish perché solitamente il prezzo tende a rompere verso il basso invece la rising wedge che è proprio l'opposto è bullish quindi il prezzo tende a rompere verso l'alto ovviamente oltre a questo devi anche avere delle altre metriche per giudicare la rottura però vediamo che si è incanalato in questo channel ribassista che ormai sta durando da un bel po' e continuerà a durare secondo me perché l'obiettivo mio poi può essere che non ci arrivi mai è quello del dollaro far arrivare Matic a un dollaro questo è il mio obiettivo per poter riaccumulare di nuovo Matic perché i miei punti di accumulo precedenti di Matic sono questa zona qui questa zona qui dei 42 centesimi e questa zona qui degli 88 centesimi e quindi se dovesse riaccumulare Matic nuovamente sinceramente quello che farei io aspetterò almeno il dollaro per cominciare a riaprire di nuovo il pack in caso vada più giù però sicuramente il mio pack partirebbe di nuovo dal dollaro verso il basso ora come ora mi sembra ancora esteso e il canale è ancora molto forte quindi vediamo come fa molto buono da fare degli short in questa zona però sicuramente per l'accumulo io aspetterei almeno il dollaro poi ho detto potrebbe mai non arrivarci non lo so intanto io ho i miei holding un po' li ho venduti in queste zone però molti li sto tenendo quindi anche io sono un long term holder solitamente poi vediamo che anche il liquid staking che ne ho parlato l'altra volta che praticamente ti danno dei token sintetici quando metti in staking i tuoi coin e con quei token sintetici puoi andare a fare altre cose come LP farming quelle robe lì quindi ottimo modo per fare diciamo staking senza intrappolare i tuoi coin a lungo termine o non poterli usare da altre parti poi ragazzi voglio ricordare a tutti a Tani che ha lanciato anche la parte trading su telefono e sugli smartphone quindi è funzionante tanti me l'hanno chiesto quando è che arriva bene adesso potete fare trading anche sul vostro telefono dalla piattaforma io comunque continuo a usare anche la parte desktop che è molto buona come vi ho fatto vedere in precedenza nel video in cui ho parlato solo di questa piattaforma potete attaccare tutti i vostri exchange quindi senza entrare uno per uno e vi danno sia il portfolio tracking quindi potete vedere anche quanto avete guadagnato in caso dovete pagare non so le tasse qualcosa vi dà tutto il breakdown del vostro portfoglio potete fare i trade ci sono i chart che potete guardare ci sono tutti gli exchange come vedete qua Kucoin GetData.io Binance è veramente veramente buona e in più vi dà anche il trading view pro che io comunque ho pagato 250 all'anno invece in questo caso ce l'avete gratuitamente e quindi dateli un'occhiata c'è un link sotto se volete l'affiliazione con il quale se vi iscrivete e cominciate a fare trading con questa piattaforma quando faranno airdrop o reward o premio emozioni sarete inclusi quindi è una compagnia ancora all'inizio molto giovane però sta facendo grandi cose che a noi servono quelli che fanno trading o ci hanno mille exchange come me quindi sicuramente ci darà una mano e io prendo tutti i feedback che mi date li mando agli sviluppatori quindi se avete feedback su questa piattaforma se avete problemi come alcuni mi hanno già detto per esempio manca questo manca quello io trasferisco loro e da quello che ho visto sono molto disponibili anzi fanno subito i cambi oppure mi danno sempre aggiornamenti nuovi su quello che potrebbe accadere quindi sono molto disponibili ragazzi cerchiamo di collaborare in questo mondo per portare avanti questi progetti che ci serviranno in futuro per migliorare ovviamente il nostro trading experience e anche mantenere un po' di ordine all'interno del nostro chart o diciamo della nostra operatività per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video